Dopo l'apertura del nuovo polo commerciale nel quartiere Gammarana a Termo, al cui interno sono stati inaugurati il Superstore Oasi e il negozio di calzature abbigliamento Globo, ora la preoccupazione in particolare dei residenti è quella della viabilità, visto che l'area in questione già soffriva in particolar modo nelle ore di punta dei problemi legati al traffico. Una vicenda su cui l'assessore alla viabilità, Maurizio Verna, ha annunciato che il Comune monitorerà attentamente la situazione e in caso di criticità si valuteranno delle possibili soluzioni. Vedremo sul campo direttamente quello che sta accadendo, quindi grazie alla polizia locale, grazie ai tecnici dell'ufficio traffico sul posto potremo capire quali accorgimenti adottare per poter snellire il traffico in una zona della città che già in alcune ore, anche prima di questa apertura, penso a via dell'aeroporto, in alcune ore di entrata e uscita delle attività lavorative, si formano delle piccole cose, quindi dobbiamo capire cosa succede ad esempio sulla rotondina alla fine di Ponte San Ferdinando e qual è poi la ripercussione del traffico sull'intera quartiere Gammarana, dovuto soprattutto al fatto della ferrovia che è un vero e proprio muro rispetto al resto della città. Quali possono essere le modifiche al traffico? A un ipotesi potrebbe essere quella di rendere a senso unico quel tratto di via dell'aeroporto appunto che collega la struttura commerciale a rotondina di Ponte San Ferdinando perché già soffre, normalmente potrebbe soffrire di più con l'apertura di questa struttura. Nei momenti di punta qualche problema c'è, forse più di un problema, ma il concetto e il problema è anche di un altro aspetto, anche nelle condizioni normali la fruibilità degli spazi è ridotta notevolmente per un ammucchiamento di parcheggi incredibili. Quando noi abbiamo lamentato il fatto che c'era stato un restringimento della strada rispetto a quella iniziale con quell'area ceduta al comune inutilizzabile, era legato proprio a questo aspetto perché anche in condizioni normali la fruibilità delle macchine rallenta notevolmente. Perché? Che cosa succede? L'utilizzazione degli spazi commerciali. Chi arriva su uno spazio commerciale? Il primo parcheggio che va a utilizzare è quello esterno, quindi molto meglio si verifica che gli spazi interrati, giustamente messi in campo dal che ha fatto l'intervento, sono vuoti, gli spazi esterni sono pieni. Quindi anche in condizioni normali il flusso normale del traffico è notevolmente rallentato. Ecco il problema della camera a gas in quello spazio, delle persone che abitano nelle circostanze. Il problema è proprio questo. Quindi è necessario che la fruibilità venga aumentata, quindi il problema della stazione deve essere risolto in tempi brevi perché al di là dell'intensità in momenti particolari c'è anche la fruizione in condizioni normali.